Buonasera, ho chiesto di vedervi così perché ritenevo doveroso anche informare la cittadinanza che chiede di conoscere, sapere, capire cosa sta accadendo. Inizia così la conferenza stampa di Carlo Salvemini, convocata nelle scorse ore per tranquillizzare i cittadini che, nonostante il voto espresso nelle urne elettorali, oggi si trovano di fronte alla totale incertezza in merito alla guida amministrativa della propria città. La commissione elettorale è riunita, attualmente non vi sono differenze, nessuno dei candidati raggiunge il 50%, non vi è una procedura di riconteggio delle schede che non è nei compiti della commissione elettorale. Il messaggio che io intendo condividere con la comunità leccese è quella di sentirsi tranquilla, che tutto sta accadendo nella piena osservanza delle disposizioni di legge. L'Italia ci guarda, ma presto potremo dire cosa che anche a Lecce si deciderà il sindaco il 23 e il 24 di giugno. Naturalmente sempre ricordandoci che qui non ci sono occupanti abusivi a palazzo di città e che non ci sono sconfitte sul campo che qualcuno intende ribaltare con decisioni a tavolino. La città è matura, consapevole e democraticamente potrà decidere chi sarà il proprio sindaco. Sindaco, la Polibortone parla di Anna Trazoppa. Lei ha detto che non c'è nel suo comunicato nessuna Anna Trazoppa. Gli stessi dati da noi acquisiti, che documentano che nessuno dei candidati ha raggiunto il 50%, ci confermano che le liste che hanno sostenuto Adriana Polibortone non sono al 50% ma al 48%. Grazie. Grazie.